ciao a tutti e bentornati su big rocket project oggi è l'ultimo giorno qua all'interno del laboratorio la macchina è stata caricata pronta per la partenza pienissimissima ciao amico grazie per tutti i bei lavori fatti insieme ci vedremo presto e per l'ultima volta almeno per il momento ok google spegni le luci match 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 later arrivati finalmente andiamo a suonare a gabriello cinzia si è pronto ciao cinzia come stai sono arrivato adesso arrivo capo il cancello bella mamma che fatica che fa stamattina a salire mamma ragazzi che viaggio lungo ho trovato anche colonna ci ho messo più del previsto siamo arrivati ci abbiamo fatto ciao pischella ciao pischella saluta pischella attrezzatissimo sono sul pezzo siamo pronti molto bene guarda qua che spazietti tranquillo adesso il viaggio è finito quattro ore ho fatto quattro ore qualcosa perché ho trovato 25 minuti di colonna per qui adesso scarico solo le ultime cose e noi ci vediamo domani ciao bene allora ieri abbiamo fatto un po di serattina senti fuori a cena e adesso andiamo a fare colazione e poi a scaricare le robe nella mia nuova stanzetta qui nel capannone ora cominciamo con gabriello a scaricare tutto e a caricare lì sul traspallet ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.